Ben trovati amici runner, eccoci qui per un nuovo appuntamento. Affrontare 42 km senza un'adeguata preparazione significa rischiare di nuocere gravemente alla propria salute. Ecco perché è utile avere delle nozioni basilari sul funzionamento del nostro corpo mentre corriamo. Le automobili per funzionare utilizzano il carburante e tramite processi elettrici e meccanici del motore producono energia. Anche noi per correre utilizziamo il carburante. Quale? Il cibo? Sì ma non direttamente perché l'energia che assumiamo mangiando viene utilizzata per sintetizzare un qualcosa che immagazzina tale energia. Questo qualcosa si chiama adenosina trifosfato che da questo punto in poi chiameremo ATP. Il nostro carburante è rappresentato da carboidrati, grassi e proteine. I carboidrati che sono a nostra disposizione sin da subito sono il glucosio che circola nel sangue e il glicogeno, circa 340 grammi nei muscoli e circa 100 grammi nel fegato. Il grasso che a prima vista potrebbe sembrare un problema nel maratoneta ha un valore enorme. Rappresenta un grosso conto in banca dal quale con giudizio si può prelevare del contante nel momento del bisogno. Per darvi un'idea dell'importanza del grasso contenuto nel nostro corpo vi dico che se ben utilizzato ci potrebbe fornire le energie per correre per 400 chilometri. starete pensando impossibile correre per tutti quei chilometri. Sì è vero ma soltanto per altri motivi non certo per mancanza di energia. Forse più in là studieremo il ciclo di Krebs e il ciclo di Cori. Mentre adesso dobbiamo cercare di capire cos'è la SAN, soglia anaerobica. Mentre la nostra auto per rifornirsi di carburante ha bisogno di qualcosa di esterno a essa, la pompa di carburante, il nostro magico corpo oltre alle calorie prelevate dal cibo riesce a creare energia autonomamente. Si tratta quasi di un ciclo infinito. Bruciamo glicogeno, lo trasformiamo nuovamente in energia e così via. Ma tutto questo funziona finché non superiamo una certa intensità. Per fare un esempio e non concentriamoci sulle cifre, se corriamo a una velocità bassa in un dato lasso di tempo bruciamo 100 grammi di glicogeno e ne produciamo nuovamente 100. Ma se superiamo una certa intensità, la famosa soglia anaerobica, non riusciremo a integrare completamente la nostra dotazione di glicogeno e accumuleremo il famoso acido lattico. Cosa accadrà a questo punto? Che presto esauriremo le energie e non troveremo più la forza per correre. Vi chiedete è il grasso o non è il nostro deposto in banca? Sì, ma soltanto fino a quando ci sarà una seppur minima riserva di glicogeno nel corpo, perché senza glicogeno non riusciremo mai a trasformare il grasso in energia. Questo ci fa capire quanto sia importante individuare questo punto, oltre al quale non andare durante una maratona, tranne che nella parte finale di essa. Come individuare la SAN? Esistono diversi metodi, quelli approssimativi, che danno risultati altrettanto approssimativi, e quelli da laboratorio, che è un argomento che approfondiremo più in avanti.